Produttività, efficienza ed organizzazione del dato, tutta in un unico strumento. Una soluzione tutta italiana nata da 15 anni di esperienza in ambito organizzazione del dato. Dai tu appi alle tue risorse e potrai ottenere immediatamente un incremento di produttività ed efficienza. Le dimenticanze sono solo un brutto ricordo. All'interno di tu appi ogni risorsa potrà consultare le proprie mail, collaborando con i colleghi e tracciando automaticamente ogni decisione presa. All'interno di questo strumento troverà la lista ordinata delle cose da fare, organizzata secondo la giusta priorità. Potrà organizzare all'interno delle pratiche tutte le comunicazioni scambiate con clienti, fornitori, documenti, decisioni prese, nonché organizzare in modo collaborativo gli appuntamenti della tua organizzazione. Tu appi è la soluzione che permette alla tua organizzazione di fare immediatamente un grande salto in termini di efficienza e produttività.